Volete sapere le 10 curiosità su Arthur? Bene, questo è il video che fa per voi, guardate tutto il video, lasciate un bel mi piace e buona visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Mi piace tantissimo, oggi andremo a spulciare nella sua vita per saperne di più. Mi raccomando ragazzi, se volete essere salutati in un prossimo video, seguitemi su Instagram, mi troverete come Zalcotto Tino Basso Youtuber, i primi tre o gli ultimi tre verranno salutati in un prossimo video. E quindi adesso, bando alle ciance e buona visione! Arthur Enrique Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur, nacque il 12 agosto del 1996 a Goiana, in Brasile, dalla madre Lucia e dal padre Ailton. Quest'ultimo faceva l'operaio e quindi garantiva alla sua famiglia la possibilità di una vita dignitosa in un quartiere tranquillo. Il suo migliore amico di infanzia fu il fratello, nonché sosia, Paolo Enrique, più piccolo di tre anni. I due amavano giocare a calcio e sfruttavano le strade desolate del proprio quartiere per poter allestire dei campetti improvvisati per la strada. Allora non c'era tattica, ma soltanto voglia di far vedere a tutti quanto fossero bravi. Anche se però il giovane Arthur aveva qualcosa in più e lo notarono tutti. I due fratelli volevano cominciare a giocare a calcio agonisticamente e quando ebbe otto anni entrò nell'accademia di futsal di Nilton Maraviglia. Dopo tre anni trascorsi presso l'accademia fu notato dagli osservatori della squadra professionistica del Goyas. Arthur una volta disse E' stato mio padre che mi ha incoraggiato a firmare perché per me tutto ancora era solo un gioco. Indossata la nuova maglia impressionò tutti per le sue abilità in mezzo al campo e già alla prima stagione fu aggregato alla squadra dei ragazzi due anni più grandi di lui. Giocare con i più grandi ovviamente ragazzi rafforzò tantissimo Arthur che però faceva sempre la differenza. Figuratevi che già a 11 anni vinse il premio di miglior calciatore del torneo. Giocare con i più grandi ovviamente Giocare con i più grandi ovviamente In poco tempo divenne capitano della squadra e addirittura giocò una partita con la mano rotta. Come vedete in foto facendo capire a tutti che niente e nessuno potevano fermarlo. Nel 2010 decise di lasciare il Goyas da eroe ragazzi. Aveva soltanto 14 anni ed era arrivata un'offerta da parte del gremio che lo arrollò nelle proprie giovanili. Nel 2015 venne promosso in prima squadra riuscendo a firmare un record incredibile. Infatti ragazzi in una partita di Coppa Libertadores riuscì a completare 40 passaggi di fila con un'impressionante precisione del 100%. Nel 2015 venne promosso in prima squadra riuscì a completare un'offerta da parte del gremio che lo arrollò nelle proprie giovanili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il gremio totalizzò 50 presenze condite da 2 gol e ben 3 assist. In quello stesso anno il fratello di Ronaldinho che allora era il talent scout del Barcellona contattò il gremio per trattare il trasferimento di Arthur ai Blaugrana. Nel 2018 quindi il Barcellona acquistò Arthur per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Esordisce in maglia Blaugrana il 12 agosto del 2018 disputando da titolare la partita di Supercoppa Spagnola contro il Siviglia e vincendo il suo primo trofeo con i Catalani. Esordisce poi nella Liga il 18 agosto seguente nell'incontro contro l'Alaves alla terza di campionato del 2019-2020 riuscì a realizzare il suo primo gol con il Barcellona ai danni dello Sasuna nella partita terminata 2-2. Dopo aver partecipato con la nazionale under 17 al campionato sudamericano del 2013 nel 2017 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore. Il debutto arriva un anno più tardi il 7 settembre del 2018 nell'amichevole vinta per 2-0 contro gli Stati Uniti. L'ultimo rendimento al Barcellona gli consente di diventare titolare della selezione brasiliana con cui viene convocato per la Coppa America del 2019. Tuttavia rischiò di saltare la competizione per un bruttissimo fallo che gli è stato fatto da Rommel Quioto in un'amichevole contro l'Honduras che veramente gli avrebbe fatto rischiare parecchio. Nella competizione la Coppa America darà il suo contributo alla squadra fino a portarla alla vittoria finale culminata poi appunto con il 3-1 sul Peru in cui appunto fornì anche l'assist del 2-0 per Gabriel Jesus. Date le sue ottime prestazioni alla fine della competizione venne inserito fra gli 11 migliori giocatori della Coppa Sudamericana del 2019. Sapevate che è fidanzata con la modella Kela Garcia che è una grandissima amica della moglie di Delict e addirittura si focifera che il suo approdo a Torino è stato anche dovuto alla spinta da parte della fidanzata che ovviamente è stata influenzata dalla moglie di Delict. Queste ovviamente sono dicerie però ragazzi secondo me è una curiosità da inserire in questo video. Ebbene ragazzi io credo che per oggi possa bastare così vi ricordo Ebbene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di andare a numerare queste curiosità Se azzeccherete verrete salutati in un prossimo video infatti per questo video vado a salutare Flucaventi che aveva azzeccato l'ordine dello scorso video riguardante appunto le 10 curiosità su Hakimi. Se non l'avete visto andatelo a vedere in alto a destra nelle schede. Adesso è veramente tutto ragazzi ricordate di lasciare un bel mi piace condividete il video secondo me Arthur è un grandissimo giocatore un grandissimo acquisto secondo me farà anche meglio di Pianici che comunque alla Juventus non è mai stato il Pianici della Roma. Io vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale, attivate la campanina per non perdervi nessun episodio. Adesso è veramente tutto seguitemi anche su Instagram mi troverete come Zetaclut a teno basso youtuber e su tutti i social che trovate sotto in descrizione. Adesso è veramente tutto ciao Zetaclut.